Anche oggi è andata deserta l'asta per la vendita del 53% delle azioni dell'autostrada Milano-Serravalle di proprietà della provincia di Milano. È la terza volta che accade. Asta deserta per la terza volta in un anno. Serravalle non fa gola agli investitori. Alla chiusura del bando per il 52,9% della società Milano-Serravalle messo in vendita dalla Asam, la holding della provincia di Milano, non è stata presentata nessuna offerta. Risultato, una bella patata bollente per il bilancio della provincia, che sperava di incassare per due obiettivi. Primo, risolvere i debiti della Asam pari a 140 milioni di euro. Secondo, rispettare il patto di stabilità. A questo punto, sul tavolo della provincia ci sono poche opzioni. Una delle più praticabili è la quotazione in borsa, ipotesi già prevista dalla delibera del Consiglio provinciale in caso di asta deserta. Le ragioni del disinteresse degli investitori sono legate, tra l'altro, all'enorme sforzo economico richiesto dalla controllata PED-Montana. Un'opera complessiva da 5 miliardi di euro a rischio per quanto riguarda i tempi di Expo 2015. Per DAPEI, presidente del Consiglio provinciale, l'unica speranza è invalidare l'operazione della precedente amministrazione. I dividendi di Serravale non bastano nemmeno a pagare gli interessi sul debito contratto all'ora per acquistarla, afferma. Mentre Ceccarelli del PD attacca un terzo bando deserto e la prova di un management che non è all'altezza.